Tanti vogliono diventare attori, pochi ci riescono e ancora meno diventano così bravi da meritare successo. La strada è lunga, faticosa, fatta di scelte continue e tanti esami, costellata di errori, ma è da essi che si impara. Come fare a diventare un attore o come migliorare tanto da riuscire ad eccellere? La prima regola è quella di cercare un maestro. Attenzione però, perché esistono anche i cattivi maestri, che ti fanno posare i mattoni sbagliati che faranno vacillare le fondamenta del tuo edificio professionale. Il vero maestro non si dimentica e da lui imparerai ben più di ciò che t'aspetti e ben oltre le regole che insegna. E ti toccherà l'anima, come un bravo attore tocca l'anima degli spettatori. Il tuo primo talento, la tua prima sfida, sarà quella di saper scegliere. Questa è la tua prima responsabilità. Il resto è nell'arte del maestro che sceglierai. Io sono uno di questi maestri e se vuoi posso seguirti in due anni di lavoro intensivo. Posso poi accompagnarti a muovere i primi passi come attore professionista e se vorrai migliorarti fino a diventare l'eccellenza in una professione che secondo me è fantastica. Però devi dimostrarmi di essere all'altezza. Ne varrà la pena. Grazie Grazie Grazie